Un uomo, mentre era alla guida della sua auto, decide di imboccare la statale Milano-Torino. Mentre che era in viaggio, accende la radio per sentire le ultime notizie. E sente dire alla radio, attenzione, attenzione, c'è stata un'invasione di alieni nella statale Milano-Torino. Allora l'uomo, mamma mia, speriamo di non incontrarli. E continua ad ascoltare la radio. E nella radio dicevano, attenzione, attenzione, sono bassi con le braccia penzolanti. E allora l'uomo si ripeteva fra se stesso, mamma mia, cosa faccio se l'incontro? Allora, mentre che era in viaggio, all'uomo viene di andare a urinare ed è costretto a fermarsi in una piazzola. Appena scende dall'auto, si accorge a distanza che c'era una figura che corrispondeva alla descrizione. Si avvicina e pensò, dice, forse sto incontrando gli alieni. E allora comincia a gridare, ciao, io sono Antonio e sto guidando. La figura risponde, e io sono Pasquale e sto cagando. Ui, ui, ui.